Avete presente l'estate quando hai 16 anni, che l'aspetti a Gloria e che vorresti fosse assolutamente indimenticabile? Ecco, dimenticate tutto. Questo posto deve diventare un resort a 5 stelle, bisogna. Sai, quello con le camere di lusso, la piscina, la spa... Dimmi. Aiuta mamma ad apparecchiare. Non ci penso nemmeno. Andrea sta per arrivare, mio cugino con la fidanzata. Ah, quel diventa anche fidanzato. Sai come lui si sta a lusti. Andrea. Genio! Cugino! Bello! Senti questa propostaccia. Te finisci di studiare e io ti metto a lavorare qui. Allora? Allora mi faccio ribocciare. Ah, ma a te ti garbano questi libri un po', eh? Cosa ci fai insieme a quello lì? Con chi con Genio? Una stragrande. Guarda, sei identica a questa qui. Ti chiami uguale e mi parli di Modigliani. Mi stai prendendo per il culo. Vai a capire, magari c'è un modo di sconosciuto in questa casa. Non c'è mai nozza. Grazie a tutti.